Ciao a tutti ragazzi, allora questo sono le carte di One Piece comprate in edicola non so quanto costano raga non c'è tutto che è scritto però non vedo l'ora di fare questo cavolo di questo bellissimo video dentro contengono 8 carte 8 carte e della panini tengono 8 carte e della panini dentro non so che cosa c'è perché non le ho mai viste o se non le ho viste su youtube o tiktok però non so no raga come è che è bellissimo non ve lo faccio vedere che bello no bello no bello no bello queste le ho viste su tiktok ragazzi le ho viste tutte su tiktok quindi ero curioso ho detto le voglio prendere anch'io ho detto magari se c'è e se le rivende le compro anch'io sai per magari per giocare un po' dentro ci sarebbero 8 carte detto si chiama one piece oficial oficial ring carti collezioni collezioni one piece 8 cars e della panini quelle della panini o quelle della panini sono quelle che ha fatto il cacciatore i panini appunto detto non so quante sono però le ha per fare un video che poi devo andare giù a buttarle perché se scopre il papà che io le ho mi ammazza con un minimo no raga no bellissime sono bellissime che brilla questa brilla raga se le persone le collezionano magari ci giocano pure io no non ci gioco ragazzi non le colleziono è solo perché ero curiosa mi sono detto prendi una scatola non so quanto ho speso raga però ho fatto uno sconto di un euro comunque tanta roba raga avevo un piece in camera e vengo in questo e poi giocarci come cazzo ti pare oggi puoi giocare come vuoi puoi anche inventarti dei giochi ragazzi allora non so i valori perché ecco non so i valori quindi do non so ragazzi non so il valore raga perché purtroppo sono un po' ignorante sulle materie però sono molto belle raga non so le rare quale sono non so niente di one piece resta il punto è che anch'io one piece adesso ma ma io non avessi su tiktok capito quindi vabbè ci stacco questo su tiktok quindi mi piace di più magari è molto più belle rispetto a carte pokemon venire gratte la mamma che sarebbe il regalo di natale me l'ha dato un mese un mese tra settimane prima perché ha detto che non faceva i regali e quindi niente allora mi ha fatto questo collego che questo il regalo e se la porto mamma se ha detto no io collego io collego che è questo il regalo che mi vuole da mia mamma perché mamma mi aveva detto che il regalo non ce l'ho dico che me l'hai già fatto che mi ha comprato delle cose che mi ha comprato delle cose quindi niente sono queste che è questo veramente ora guarda che ho già un mazzettino e sarà un bel mazzo grande non so perché c'è il teschio poi dopo prendo un schetto vado giù ne butto oggi è domenica perfino wow no ragazzi sono bello 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 non so che c'è il cane dietro adesso non so perché mi interessa One Piece boh adesso sei postata ragà influenzata da TikTok hai capito influenzata da TikTok ovviamente tu vedi delle cose che tu vuoi e quindi dici mi piacerebbe avere questo 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 ma cosa succede che magari nessuno te lo compra non so quanto cazzo ho speso non so quanto cavolo ho speso in tutto però nessuno me le conta però io ve le posso comprare tutto qui però io mi accontento con una scatola ragazzi io mi accontento ragà con una scatola perché io non voglio comprarle in realtà ragazzi io voglio comprarle ma a me basta la scatola quanti giochi potresti fare con questo cast tipo di carte te le puoi anche inventare quindi io sono anche contenta con una scatola non voglio comprarne altre scatole ok tanto io queste non le colleziono è chiaro non le colleziono ragazzi sto facendo vedere sto facendo vedere per farvi vedere cosa ho comprato oggi non dovete chiedere perché io non le farò più compro la scatola ho una scatola bastano poi io non so neanche poi dopo dove metterle queste carte capito e per me è un problema se non so dove cacchio metterle via dicendo guarda che comunque raga le ho già un mazzo raga le ho già più di un mazzo ho detto non potete vedere però vi faccio vedere come sono contenta con una scatola buona con una scatola buona perché non so che cavolo farmene ero curiosa appunto e lo comprate le ho comprate punte basta una scatola mi basta perché perché io sono accontentabile che io sono molto contenta se la mamma mi ha comprato una scatola piuttosto che la mamma mi ha regalato 304 scatole non è una collezione ragazzi ma era un desiderio raga che io volevo e la mamma me l'ha esaudito una scatoletta hai capito sarà adesso vediamo non so quante sono i pacchetti adesso le conterò quante sono i pacchetti e vedo però sono tanti sacchetti io la scatola ma non la scatola ce ne sono tante magari quindi e basta la scatola ne ho comprata basta ce la basta da una raga basta veramente perché diventa poi enorme e dove le metto tutte queste carte dopo queste basta che le puoi mettere in una scatola è finita la cosa se ne metti più di una cioè se io ne avrò altre raga non so mai dove mi chi a mettere perché diventa come le pokemon poi diventa una fessazione diventa una fessazione raga in verità non si comprano assolutamente perché è sbagliato che io le compravo cioè no è sbagliato se io le compro altre ragazzi ho ho comprato una scatola mi sto a divertir per aprirla basta conta solo questo adesso conta solo questo raga one piece è promosso però per adesso one piece è promosso andiamo le apro tutte poi le metto in una sacchetto diciamo e la butto via tardi quando esco la butto via nel cestino di fuori nessun bambino magari non lo so perché one piece magari è anche uscito quest'anno boh capito mi fa piacere sempre i collezionisti per i collezionisti che non sono io raga ok per i collezionisti che ripeto non sono io raga in tutto caso ho fatto un trascorso con le pokemon collezionavo le pokemon adesso non le colleziono mai più non le colleziono più perché non mi piacciono più ecco e le ho messe in vendita queste polse io mi stufo le posso mettere in vendita se queste mi stufo ovviamente le metto in vendita e siamo a posto cosa regalo della mamma che però mi ha dato molto anche prima anche se manca un mese e tre settimane ce l'ho fatto capito capito questa è una collezione ma io non la faccio mi sono comprata la scatola perché io per un momento curiosa e poi volevo portare qualcosa di divertente anche sul mio canale dato che il problema non è questo ma occupato la scatola fine basta chiusa la cosa è morta la cosa non è che mi ha aspettato un'altra scatola assolutamente no forse qualcuno ce l'avrò doppia ma io non so a che cosa scambiare quindi li tengo beh dai vi faccio vedere il mio ma zettino ecco adesso ho letto in un sacchetto poi dopo vedo come oh se scuole tre capito magari questa la posso anche mettere in una scatola in qualche parte l'u questo tutto tutto l'u vi faccio vedere poi la mia scatola no cioè vi faccio vedere poi la mia o mio questo voglio farvelo vedere magari ho paura che non ve lo vabbè ve le faccio vedere tutte raga queste sono già ammazzo e raga le faccio già vedere tutte raga ok un bel coso il test come queste costano un bel po un bel coso il test come queste costano un bel coso il test come queste costano con tinta devo poter nasconde spero di nasconde perché se no se scopre papa lo scopre la monica ma ammazza cammino questo per un bel po le tengo che dato questo a me non mi disturba non raga perché non è tanta roba quindi va bene non 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 Sì Non voglio farle stasera Perché stasera C'è papà in casa E quindi Non devo scoprirmi Non devo scoprirmi E' tanta roba Tu hai detto che è un più Un mazzo Tu hai detto che è un mazzo Un mazzo Non so se c'è dubbio ragazzi Però vabbè Tattoli dovrò ottenere Lo stesso Anche se sono dubbio Ragazzi ne potrei Perché Con chi li scambio Non so se gli altri bambini Hanno One Piece Magari io sono l'unica Che ce li ha ancora Io magari sarei Boh Io sarei l'unica Che avrò le carte Ma è la prima Che ce li ha Non so quando sono uscite Un'edicola Non lo so No Nesta il fatto Che io non so Con chi scambiare Quindi Tengo anche le dubbie Che io non so Che io non so Che io non so E ho finito La scatola Noi come sempre Ci vediamo A un prossimo video Ciao 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 Grazie.